Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano Horacio Manuel Cartes Iara, presidente della Repubblica del Paraguay. Il colloquio, durato circa 20 minuti, in forma a una nota della sala stampa, si è svolto in un clima di grande cordialità, facendo così emergere le buone relazioni esistenti tra Santa Sede e Paraguay. Al centro dell'incontro temi di comune interesse come lo sviluppo integrale della persona umana, la lotta alla povertà, il raggiungimento della pace sociale. In questa prospettiva si è accennato pure alla collaborazione con la Chiesa Cattolica e al contributo che essa offre nell'ambito sociale, formativo e nell'assistenza ai più bisognosi. Ancora Francesco e Cartes Iara si sono confrontati sulla situazione politica e sociale regionale, con speciale riferimento allo sviluppo delle istituzioni democratiche nel paese latinoamericano. A conclusione dell'udienza, il consueto scambio dei doni tra il Papa e il suo ospite. Grazie. 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 Grazie.